Nove scoperte scientifiche hanno dimostrato che le determinate, per esempio, emozioni che influiscono sul cervello sono in grado di influenzare tutte le cellule del nostro corpo tramite la produzione di certe sostanze, ormoni neotrasmettitori, cioè dei ligandi, delle sostanze che circolando alla fine arrivano anche agli organi bersaglio, alle cellule bersaglio, in realtà arrivano appunto a sensibilizzare l'intero corpo. Non è, di fatti, assolutamente sconosciuto il fatto che determinate emozioni prendono anche a livello fisico, no? E quindi è ora di sfatare il mito della separazione, quel mito medievale della separazione fra mente e corpo, che in realtà rappresentano un tutt'uno. E anzi, oltre alla mente e al corpo, dobbiamo considerare anche lo spirito, perché nello spirito in realtà risiede la coscienza. Se nella mente risiede la conoscenza, nello spirito risiede la coscienza, che è praticamente la nostra componente animistica, fondamentale, anch'essa per uno stato di benessere e di salute. Francis Bacon diceva, la conoscenza è potere, forse questo è vero, ma Einstein ha poi detto, l'immaginazione è molto più potente della conoscenza. Di conseguenza, quindi, noi, tramite i nostri pensieri, tramite le nostre emozioni, noi possiamo creare una nostra rappresentazione interna, che apparentemente potrebbe sembrare una realtà virtuale, ma che di fatto diventa una vera realtà, perché il cervello non è in grado di distinguere da quello che è vero e da quello che è immaginato, nel senso che alla fine entrambe le situazioni provocano delle risposte biochimiche identiche a livello cerebrale. E di conseguenza, allora, a questo punto, questi concetti diventano fondamentali per un nuovo paradigma finalizzato al raggiungimento del benessere e della salute. Quindi l'importanza anche dello stato emotivo, l'importanza dell'aspetto psicologico, l'importanza dell'aspetto spirituale. Tutto ciò apre nuove e eccitanti prospettive nell'ottica del raggiungimento del benessere e della salute. Quindi non più destinati a un destino predeterminato, ma in realtà noi stessi possiamo diventare, dobbiamo diventare creatori del nostro benessere e della nostra salute, come con i nostri comportamenti, con la corretta alimentazione, l'attività fisica e il pensiero positivo. L'alimentazione è in grado di modulare la produzione dei vari neotrasmettitori. Pensate ai carboidrati che favoriscono la produzione della serotonina, pensate invece alle proteine che favoriscono la produzione di adrenalina e anche determinati integratori, come per esempio la solfoadenosilmetionina, il same, che è un potente modulatore epigenetico, in grado di influenzare processi biochimici a livello cerebrale. In maniera specifica la solfoadenosilmetionina è in grado di influenzare il metabolismo delle catecolamine, cioè per esempio dell'adrenalina, ma anche della dopamina, così come è in grado anche di modulare la serotonina. E di conseguenza la solfoadenosilmetionina può avere sia un effetto no troppo, cioè di migliorare le capacità cognitiva, e anche antidepressivo. Ecco quindi che si aprono nuove frontiere che mettono nelle nostre mani la responsabilità di avere una vita più gioiosa e possibilmente anche in salute. Chi fosse interessato a questi argomenti può partecipare al convegno nazionale che si terrà l'11 settembre a Bologna, dalla cellula all'anima, nell'era dell'epigenetica. Io personalmente tratterò la relazione emozioni mente-corpo, il ruolo epigenetico degli stili di vita e delle integrazioni nella modulazione degli ormoni e dei neurotrasmettatori. Il convegno è gratuito, salvo che è necessaria la prenotazione.